Stiamo perdendo l'obiettivo Alfa. Abbiamo perso l'obiettivo Alfa. Abbiamo perso l'obiettivo, Charlie. Abbiamo conquistato l'obiettivo Bravo. Sì, abbiamo perso l'obiettivo! Sì, abbiamo perso l'obiettivo. Siamo a metà e in vantaggio. Abbiamo conquistato l'obiettivo Charlie. Abbiamo perso l'obiettivo! Forza, conquistiamo l'obiettivo! Occhio, granata in qua! Forza! Fai! Forza, perci? E' stato un'obiettivo! Va bene? Voi! Questa è? Perci? Perci? Perciate! Perciate! Potentare! Perciate! 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 Un kit sentinella è disponibile vicino alla tua posizione. Pronte delle munizioni. Abbiamo perso l'obiettivo Charlie. Ecco, munizioni! Abbiamo perso l'obiettivo Alpha. Abbiamo perso l'obiettivo. Abbiamo conquistato l'obiettivo Bravo. Abbiamo perso l'obiettivo Charlie. Abbiamo perso l'obiettivo Charlie. Abbiamo perso l'obiettivo Charlie. Grazie a tutti. abbiamo conquistato l'obiettivo abbiamo perso l'obiettivo bravo abbiamo conquistato l'obiettivo lancio una granata abbiamo perso l'obiettivo così non va ragazzi grazie 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 a tutti. 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 Abbiamo perso l'obiettivo, bravo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo perso l'obiettivo, bravo. Grazie a tutti. Stiamo perdendo l'obiettivo. Stiamo perdendo l'obiettivo alfa. Stiamo perdendo. Abbiamo... Abbiamo... Stiamo... 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 Stiamo perdendo l'obiettivo. Stiamo perdendo l'obiettivo, bravo. Abbiamo perso l'obiettivo. Abbiamo perso l'obiettivo, bravo. Stiamo perdendo l'obiettivo. Stiamo perdendo l'obiettivo. Stiamo perdendo l'obiettivo. Stiamo perdendo l'obiettivo. Oh Il kit flammiere è disponibile vicino alla tua posizione. Il kit flammiere è disponibile. Il kit flammiere è disponibile.